The Human League, Don't You Want Me, 8 e 08, ben ritrovati qui su Cristal Radio, ben ritrovati a Good Morning Milano e quest'oggi parliamo di arte perché ci ha raggiunto in studio con noi Eva Amos, buongiorno Eva buongiorno Fabio, buongiorno a tutti grazie mille Eva di essere qui, allora con Eva spesso e volentieri appunto parliamo di arte anche perché tu sei una curatrice oltre che un artista perché sappiamo che dipingi, suoni la chitarra reggiamente, sei appunto anche una curatrice di mostre tra cui questa art exhibition che appunto inizia il 25 di gennaio dal titolo Restart volume 2 diciamo esattamente, perché la seconda edizione, la prima edizione abbiamo inaugurato nel gennaio 2023 come tradizione, tradizione di gennaio, gennaio è il mese della ripartenza e quindi il restart appunto anzi, la prima l'avete fatta mi dicevi quando? Gennaio 22 giusto? 23 23 diciamo, diciamo che dopo la fine di tutte quelle che erano le restrizioni era forse uno dei primi gennaio che si facevano un po' più liberi e allora abbiamo fatto un davvero proprio restart appunto quest'anno invece diventa tradizione quindi ci auguriamo appunto a tutti i gennaio di averti qui a raccontare di questa esibizione di questa mostra d'arte che appunto inizia il 25 di gennaio presso Abarth che sta in via Passopordoi zona Fondazione Prada adesso diciamo proprio perché sì, zona tra Corvetto, Porto di Mare no, Brenta, scusa Brenta, ho sbagliato, Brenta, però in realtà è Fondazione Prada, facciamo prima a dire così Restart, allora con chi e cosa ripartiremo in questo gennaio? Allora ripartiamo con 41 artisti internazionali naturalmente e abbiamo artisti che provengono comunque da molto lontano come per esempio da Canada, Brasile, Giappone e quindi ci saranno proprio le visioni diversissime tra di loro che parleranno appunto del tema di ripartenza, nuovo inizio con linguaggio artistico Ovviamente voi avete già visto tutte le opere perché giustamente dovete sapere chi esibisce chi si esibisce, che tipo di opere andremo a vedere, saranno solo quadri, saranno cose cosa abbiamo di bello a questo giro? Allora abbiamo naturalmente maggior parte delle opere sono le opere pittoriche, astratte, figurative eccetera eccetera però abbiamo anche le fotografie e abbiamo anche delle bellissime sculture quindi ci sarà un po' di tutto in più oltre diciamo l'arte abbiamo anche la musica perché la serata di opening sarà accompagnata dalla musica dal vivo del band che si chiama Acoustikers che tra l'altro uno dei musicisti di questo gruppo è anche un artista che espone alla mostra si chiama Franco Fabri che saluto in duplice veste quindi esatto esatto quindi cerchiamo sempre di coinvolgere diciamo più come mai non hai suonato tu? Scusate sei brevissima a suonare Eh ma non posso fare tutto Ah ok, la duplice veste va bene perché si esibisce ovviamente Eva avrà da gestire tutto quanto appunto ricordiamo che l'opening, il vernissaggio si dice ancora così? Sì, vernissaggio Si dice ancora vernissaggio Sicuramente ci saranno le opere che non sono ancora asciugate bene Eh infatti infatti ricordiamo appunto che vernissaggio era proprio da quello dal fatto che le opere a volte erano così nuove che non erano neanche che la vernice ancora era fresca e quindi da lì appunto nasce la parola vernissaggio Quando è quindi? 25? 25 gennaio dalle ore 17, 17.30 accolienza ospiti Ok E fino alle 20.30 Ok, dopo questa canzone poi ci dici bene cosa succederà all'interno del vernissaggio Esattamente Adesso andiamo con i Foo Fighters con The Glass The Glass, The Glass con Foo, cioè i Foo Fighters con The Glass alle 8 e 15 minuti di oggi lunedì 22 gennaio che fuori onda tra parenti abbiamo scoperto essere anche il compleanno di Eva Tanti auguri Eva Grazie, grazie, grazie Finalmente Maggiorenne, puoi firmare le giustificazioni, gli assegni e puoi guidare Sì, sì, sì No, allora, tanti tanti auguri, bellissima festeggia, quindi il 25 si festeggia quel compleanno al vernissaggio della mostra Ovviamente, tutta la settimana si festeggia Eh, infatti, una settimana di festeggiamenti, giusto? Esatto Perfetto, perfetto Esatto, perché noi volevamo festeggiare poi sabato, perché lunedì Eh no, infatti si festeggia quindi Quindi si inizia lunedì, portiamo avanti giovedì grande happening e poi sabato facciamo grande festeggiamento Esattamente Che cosa succederà appunto giovedì da Abarth? Come avviene il vernissaggio di questa Restart numero 2? Allora, abbiamo preparato un programma molto ricco di eventi E come dicevo prima, ci sarà la serata di opening, sarà accompagnata dal musica dal vivo Del band, del cover band Acoustikers E alle ore 18 abbiamo presentazione del libro Un babab toccò il cielo dell'Africa Del giovane scrittore Giacomo Pozzi Che ha scritto un romanzo sul suo viaggio, diciamo, immaginario in Africa E la cosa divertente è che adesso veramente, cioè lui può condividere con noi la sua vera esperienza in Africa Perché è finalmente riuscito a raggiungere l'Africa e racconterà della... Perché lui aveva scritto questo libro prima di con lui, no? Sì, è un viaggio immaginario, diciamo, sì, sì, sì E adesso sono veramente molto, molto curiosa di sapere cosa ha visto veramente Speriamo che le aspettative siano state all'altezza del viaggio Perché lui mi ha già accennato e mi ha detto che hanno anche rischiato un po' Perché comunque Africa è un posto molto... Vabbè, sì, dipende dove vai Cioè, finché andate nel villaggio turistico... Sì, sì, esatto Facile? No, 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 lui ha fatto un'esperienza un po' diversa da quella... Un po' wild, un po' wild all'avventura Esattamente, esattamente E qui presenterà appunto il libro Il suo libro, esatto, alle ore 18, sì E poi alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale con Critico, Luca Siniscalco E inoltre interverrà anche Walter, rappresentante del progetto Itaca Che tu conosci già, mi dicevi Molto conosciuto a Milano, quindi, sì, sì Esatto, e non solo, ma anche a Roma, mi sento che sono molto attivi E quindi loro racconteranno delle problematiche che... Insomma, loro operano in tantissimi quartieri un po' borderline di questa città E danno un grande aiuto a molti cittadini A molti ragazzi, soprattutto ragazzi e ragazze in difficoltà E sarà interessante appunto, anche loro in un certo senso appunto danno un restart Danno un modo di ripartire da alcune situazioni un po' difficili Quindi saranno appunto ospiti d'onore di questo Vernissage Che appunto sarà il 25 gennaio, a che ora ricordiamo? Inizia tutto? Dalle ore 17 Ok, 17 in poi, siamo avanti Sì, fino alle 8 e mezzo Fino alle 8 e mezzo E soprattutto avete la possibilità di vedere tutti i 41 artisti, giusto? Sì Ok, che saranno anche più opere però Perché poi alcuni... Sì, 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 alcuni spongono più di un'opera Perché dipende sempre dalle dimensioni Ah, infatti, infatti, insomma Molto, molto interessante Se volete sapere un po' di più e capire un po' meglio Sappiamo che c'è un sito su cui possiamo andare a vedere, giusto? Sì, artspacemilano.com Dove potete vedere anche i progetti che abbiamo già creato E che abbiamo in programma, eccetera Artspacemilano, è così fan? Artspacemilano.com Mi raccomando, segnatevelo Va bene, adesso andiamo qua con un po' di musica E poi torniamo qui insieme sempre a Evamos Per capire meglio e magari sapere qualche nome Qualcosa di interessante di chi espone, ok? Marco Mengoni Marco Mengoni ci fa entrare nella seconda parte di trasmissione Però solo qualche minuto Perché poi andiamo, ancora scusate, andiamo in pausa Per poi entrare nella seconda pausa Ciao, allora Ho fatto su un casino, Eva, che metà basta Perché stavo leggendo la tolocandina Ricordiamo quindi il 25 di gennaio 25 gennaio presso la Galleria Bart In via privata Passo Pordò E dalle ore 5 fino alle ore 8 e 30 Vi aspettiamo per l'ingurazione della mostra Restart 2 Bravissimo, volevo solo dire questo Voglio dire, appunto, quindi Rimanete ancora collegati con noi Perché adesso parte la seconda Inizia la seconda parte di trasmissione Non prima però di aver ascoltato Elodie con la sua Affari Spenti Ecco, era facile Non era difficile, ma non era difficile da dire Solo che fare due cose in contemporanea Leggere una cosa e dire un'altra Non fa parte proprio del mio E quindi andiamo avanti con Elodie Affari Spenti Analisa e Euphoria Ed eccoloci qua nell'ultima mezz'ora di Good Morning Milano Sempre qui su Cristal Radio 8 e 31 minuti 331-7853-555 Il numero di Whatsapp a cui potete scriverci E siamo qua Siamo qua ad aspettare i vostri Whatsapp Cosa state facendo? Dove state andando? Con chi siete? Magari siete da soli nel traffico Disperati No, perché potete ascoltare Cristal Radio Quindi non disperatevi O magari siete in bella compagnia E dite Oh, senti questi qui bravi alla mattina Su Good Morning Milano Che bravi che sono Bravissimi Fate così Questa mattina con noi Evamos Per parlare di arte Per parlare di mostre artistiche Insomma, questo Restart 2 Il 25 gennaio apre, no? Abbiamo detto 41 artisti, Eva, giusto? Sì, 41 artisti, esattamente Che arrivano da qualsiasi parte del mondo Sì, da tutto il mondo Questa volta abbiamo Un po' di artisti Che provengono dai paesi scandinavi Come Svezia, Finlandia, Norvegia Sì, sì Molto interessante questo giro Sempre più internazionali Le tue mostre Sempre più complete Anche dal punto di vista dell'arte Dicevamo che Molti quadri che vedremo Di tutti i tipi Perché poi in realtà Dire quadro è anche riduttivo a volte Ci attaccano su cose Materiche Cose che escono Piccoli, grandi No? Sì, c'è diversità Veramente impressionante Quindi No, questo è bello Secondo me Nell'arte Che Puoi sempre vedere le cose Magari nuove Interessanti Cioè quello che magari Non aspetti mai A vedere, no? Ecco, appunto Che cosa dobbiamo aspettarci Da questa edizione 2 Di Restart? Allora Naturalmente Non posso svelarvi Tutto quello che è Perché bisogna vedere Dal vivo, no? Perché anche Le foto Non trasmettono mai Le vere emozioni Del quadro Però Come dicevo Ti dicevo prima Oltre le opere pittori Che abbiamo anche Delle sculture E di Posso raccontare Magari questa Allora L'artista Che fa Queste Queste sculture Molto particolari Di Non ho ancora capito bene Di cosa sono realizzate Un po' forse di plastica O di plexiglass Perché non ho ancora Visto dal vivo E Questo artista appunto Si chiama Salvatore Pirodi Che Arriva da Sassari Dalla Sardegna E Ho già Confrontato Con Con Anna Rita La nostra Amica artista Esatto Perché anche lei Appunto è sarda E Lei ha apprezzato molto Le opere di Salvatore Sono Davvero Molto Molto Interessanti E Dovete venire a vedere Queste opere Sono delle sculture Piccoline Un po' Si Si intitola Garibaldini 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 Sì Insomma Loro la ripartenza La fecero i come Effettivamente Garibaldini Comunque Ogni anno Appunto A gennaio C'è questa restart Ma so che non essere però L'unica mostra Anzi ormai Sono tante le mostre Che durante l'anno Vai a Compiere E a preparare Sul territorio milanese E non solo Perché ti ricordi che l'anno scorso Siamo andati anche a Barcellona Per fare la mostra La nuova edizione Della mostra Mars La mostra sull'amore Pensate che comunque Il paese come Spagna Potrebbe apprezzare L'argomento Com'è andata? Andata bene? Andata molto bene Poi anche la zona Della galleria E appunto È sempre a Barth La galleria Ah ok E si trova nella zona Di Barceloneta Vicino al mare Quindi no Veramente Siamo trovati bene Vediamo di comunque Andare avanti Con questa collaborazione Ok Allora adesso Ci ascoltiamo con la pesce di Martino Poi mi racconti un po' invece Cosa altro sta per arrivare A Milano E magari Se ci puoi dare qualche anticipazione Così Ci portiamo avanti E ci rissegniamo Anche già sul calendario Con la pesce di Martino Musica leggerissima Con la pesce di Martino Musica leggerissima Come potrebbe essere O no Quello dipende un po' da voi Andare ad esempio Alle mostre di E vamos Perché a volte È bello andare con la leggerezza Del vedere qualcosa di bello E basta Altre volte invece È bello approfondire Capire il significato profondo Che c'è in tantissime opere E sono davvero tante In questo caso Parliamo di restart Art2 Che apre il 25 di gennaio Appunto A Abarth Zona Fondazione Prada Via Passo Pordoi Con 41 artisti Una cinquantina di opere Più o meno Siamo lì Più o meno Più o meno lì Da tutto il mondo Ma come vi dicevo appunto Abarth Non fa Cioè scusate Art Space E vamos Non fanno solo Questa mostra Ne fanno tante tante altre Abbiamo raccontato appunto Di Amars Fatta a Barcellona Qualche tempo fa Ma a Milano Sono tante Cosa c'è in calendario Allora Possiamo già scoprire Svelarvi la prossima mostra Che stiamo Su quale stiamo già lavorando È una mostra Molto importante Per noi Perché il tema È davvero Molto interessante Perché si parlerà Della città di Milano Quindi la mostra Si intitola Milart E gli artisti Presenteranno le opere Che parleranno Della città metropolitana Quindi E poi Come sempre Da tutto il mondo Eh sì Sì Sarà interessante Vedere anche Che idea Hanno della nostra città Nel resto Del mondo È una bella scommessa Sì Una bella scommessa Perché naturalmente Uno che non abita Che non è di Milano È difficile già Per quelli che non abitano a Milano Per italiani che non abitano a Milano Fare questo omaggio Sì Magari proprio Per chi è così lontano Magari invece è più semplice Perché è un pasto esotico Da pensare Cioè se immaginassi Di fare un quadro Che parla di Tokyo Magari mi verrebbe Se mi dici di fare un quadro Che parla di Pavia Magari è un po' più difficile Per me È un po' più difficile Esatto Quindi effettivamente È interessante vedere Che cosa Che idea Allora diciamo che Sicuramente Parlare di Milano È molto più facile Che di Pavia Senza togliere nulla No no Senza togliere una Pavia È una bella città Complimenti Perché ci sono Cioè Milano Ormai è diventato un brand Quindi ci sono tante cose Milano Fashion Week Design Week L'arte Leonardo C'è di tutto È veramente interessante Sarà molto interessante Vedela Si sa già quando Verrà fatta questa mostra Più o meno Un periodo Sì 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 Si sa già il periodo Dal primo Al 10 marzo Ah marzo Ok Quindi Un risveglio Primaverile Insieme all'arte Di Eva Di Milano Sì Mentre Per quanto riguarda La location Ci spostiamo Nella galleria Maek Che appunto si trova Due passi Dal Duomo E una delle attraverse Di via Torino Quindi Più Milano di così Infatti Nel centro di Milano Per parlare di Milano Con ospiti Artisti Che arriveranno Appunto Da tutto Il mondo Hai già Idei anche Di altre Mostre Che farei più avanti O così Idei Nel senso Temi Che ti piacerebbe Trattare Allora Per il momento Solo diciamo Il periodo Ma sto ancora Ragionando sul tema Vogliamo fare la mostra Durante la Design Week Ad aprile Però sto un po' Ragionando sul tema Cioè mi piacerebbe Fare qualcosa Legato con design Però Vuole un po' Indirizzare Magari dare qualche Ecco Va bene Un po' di tempo Ce n'è ancora Per pensarci bene E se voi avete Qualche suggerimento 331 7853 555 Potete scrivere Un whatsapp E noi insomma Ci pensiamo Va bene Comunque Ricordatevi che invece Il 25 di gennaio Cioè giovedì Inizia invece Restart 2 E quindi Mi raccomando Seguite tutto Quello che è Sui social Di Eva Di Art Space Per capire meglio Quello che potrete andare a vedere Al Vernissage Di Restart Adesso Ultima canzone Poi torniamo a salutarci Qui con Eva E a darvi gli ultimi appuntamenti Per non perdervi neanche Un momento appunto Di Restart 2 E questo è il Cranberries Con Zombie 8 e 48 minuti Lunedì 22 gennaio Tanti auguri ancora A Evamos Per il suo compleanno E Evamos Che appunto Siamo in conclusione Siamo in chiusura Devi ricordarci Tutto quello Che dobbiamo sapere Sul Restart 2 Allora il 25 gennaio Dalle ore 5 Vi aspetto Per l'apertura Della seconda edizione Della mostra Restart Con 41 artisti E non solo Perché ci saranno Altri eventi All'interno Del Vernissage Gli altri eventi E come per esempio La musica live Un Baobab Un Baobab Del progetto Del progetto Di tempo Ma è sempre Super consigliato Venire per Per l'opening Perché potete Conoscere gli artisti Dal vivo Parlare Sono tanti Sono tanti gli artisti Che proprio vengono Il giorno del Vernissage Nonostante siano Sparsi per il mondo O comunque Li trovate di tanti La cosa sorprendente È che molti artisti Esteri E internazionali Verranno proprio Per l'opening Quindi mi hanno già avvisato Che veniamo Da Norvegia Portogallo Quindi Quindi se volete Anche farvi degli amici Lontani Per poi magari Farvi ospitare Potete anche provare Questa Potrebbe essere Un secondo fine Sammai Andate lì Fatti i gentili Sammai che magari Quello norvegese Dice Ma poi vieni a trovarmi Va bene Sono già lì Io quest'estate Vorrò da quelle parti Esatto Vedere un po' di fiordi Sì quest'estate Voglio fare un viaggio Dalle parti della Norvegia Quindi adesso A questo punto Verrò a cercare Consiglio Anche dai tuoi artisti No ricordiamo quindi Appunto Dalle 17 Dalle ore 17 Fino alle 8 e mezzo Ok Ab Art Via Passo Pordoi L'opening Il vernissage Di Restart 2 Questo è quello che Succederà appunto Questo giovedì Giovedì Ricordiamo che giovedì Perché spesso ventieri Dice Non è venerdì È giovedì Sì l'ho scoperto Due settimane fa Che il 25 Non è venerdì Ma giovedì Quindi fai bene A sottolineare Perché è giovedì Perché se uno magari Abituato a che queste cose Vengono fatte di venerdì Così per chiudere la settimana Invece no Non è fatto di giovedì Quindi secondo me È anche più interessante Ormai basta Basta questa cosa del venerdì Ormai è passata Non è più così Non è più così Va bene Allora Eva Grazie mille Di essere stata qui con noi Grazie mille Grazie a te Fabio Seguite Evamos Sui social E anche Artspace Giusto? Artspace Milano Artspace Milano Seguitelo Così che possiate avere Tutte le informazioni Su quello che avviene E quello che costruiscono In questa città E non solo Grazie mille Evamos Andiamo ancora con un po' di musica E poi torniamo qui Per i saluti finali Adesso è Ozuna Insieme a David Guetta Con Vocation Good morning Milano Grazie mille